Con Bogdan Milojevic e Bogdan, grandissima vittoria di squadra direi. Certo, siamo partiti anche loro, hanno giocato benissimo, tiro da fuori ne avevamo messi quasi tutti, però alla fine abbiamo tirato fuori tutto, meno male abbiamo vinto da bene, non abbiamo separato questa differenza di canestri, però comunque non l'abbiamo portata a casa questi due punti. Era importante vincere perché adesso siete nelle parti alti della classifica, perdere poteva significare mettersi un po' nella zona centrale, medio-bassa diciamo. Certo, se c'è la scofita ci avrebbe fatto malissimo, però adesso come ho detto speriamo vinciamo pure la prossima, siamo proprio nelle prime 4-5, non ho seguito bene la lista là, però andiamo benissimo. Prossima appunto, sempre si va fuori casa contro Porto Sant'Elpidio, anche qui partita difficile Bogdan. Sì, un capocaldo perché ci ho già giocato con la bacione allo scorso, play-off, dobbiamo tenere una botta fortissima che a noi è per niente facilissima, come sempre spero al meglio.